Molti sport di quartiere si trasferisce all'aperto. Il progetto varato dalla Sport Academy Sasseri, finanziato a Sport e Salute, che utilizza le discipline sportive come mezzo per combattere il disagio sociale e promuovere l'inclusione, è entrato infatti nella sua seconda fase con l'apertura di centri estivi nei quali centinaia di utenti piccoli e grandi potranno svolgere fino al 16 settembre a titolo completamente gratuito tante attività ludico-sportive come calcio, basket, volley e arti marziali, ma anche frequentare laboratori di cucina, musica, pittura e teatro. Finalmente siamo arrivati alla parte estiva del progetto, un progetto che è iniziato questo inverno con le attività al chiuso, di nuoto e il sport multidisciplina. Abbiamo attivato tre presidi importantissimi, tre centri adeguati a misura di bambino, il parco di Badimanda come potete vedere le immagini alle mie spalle, il De Villa in via Montegrappa numero 2 e Torres Lufangazzo in via Corraduzza nella zona del quartiere di Luna e Sole. Sono più di 300 i bambini che hanno iniziato già a fare attività e ancora ne stiamo inserendo. Infine sono iniziate anche le attività di rilevazione effettuate dai tirocinanti del corso di laurea di scienze motorie e dipartimento di scienze biomediche delle Università di Sassari che svolgeranno una ricerca scientifica sui benefici dell'attività sportiva sugli over 65.